Ciao ragazze, sono Marco per gli amici Il Cuso e benvenuti a una nuova puntata della Fisica che non ti aspetti. Alzi la mano chi ha sentito almeno una volta la frase La Relatività Ristretta afferma che la massa di una particella aumenta con la sua velocità. Bene, e ora tenga la mano alzata chi pensa che questa frase sia corretta. Se avete ancora la mano alzata, abbassatela, mettete mi piace e statemi a sentire, perché questa cosa della massa che aumenta con la velocità dobbiamo risolverla. Però è vero che tanti lo pensano, tanti appassionati certo, ma anche tanti scienziati e credo anche molti fisici. Ma come mai questa idea è così radicata? Il motivo è da ricercarsi in un modo ormai superato di presentare un concetto diverso, quello di momento. Questo è il simbolo con cui normalmente si rappresenta in fisica una grandezza nota come momento. Detta in modo un po' approssimativo, il momento di un corpo e per semplicità parleremo solo di particelle dotate di massa, anche se pure i fotoni hanno un momento, rappresenta il tempo necessario per fermare un corpo in movimento applicando una forza costante o alternativamente, quanto è difficile fermare una particella in moto. Pensateci un attimo. Secondo voi è più facile fermare una pallina da tennis che viaggia a 100 metri al secondo o una che viaggia a 1 metro al secondo? Ed è più facile fermare una pallina da tennis che viaggia a 1 metro al secondo o un autotreno che viaggia alla stessa velocità? Siccome so che avete risposto correttamente ad entrambe le domande, questa è la relazione che lega momento, massa e velocità di una particella. Come vedete è molto semplice, è persino più semplice della più famosa E uguale mc quadro. Ma la relatività ristretta ci dice che questa relazione è sbagliata o al più è una approssimazione, un'espressione che possiamo considerare valida solo a una condizione, se la velocità della particella è piccola rispetto a quel limite universale che è la velocità della luce nel vuoto, c. La relazione corretta è questa, con quel termine gamma che prende il nome di coefficiente di Lorentz. Il coefficiente di Lorentz ha questa espressione matematica, ma per chi è allergico alle formule delle formule, proverò a farvi capire perché, normalmente, noi non vediamo i suoi effetti. Se v è molto piccolo rispetto a c, il loro rapporto è quasi 0. Ora provate con una calcolatrice a elevare al quadrato un numero compreso tra 0 e 1. Noterete che il risultato è sempre compreso tra 0 e il numero di partenza. Elevare al quadrato un numero tra 0 e 1 porta un numero più piccolo, più vicino a 0. Se tolgo da 1 un numero che è molto vicino a 0, otterò un numero molto vicino a 1, sempre con la calcolatrice. Calcolate la radice quadrata di qualche numero compreso tra 0 e 1 e il risultato è sempre compreso tra il numero di partenza e 1. Insomma, la radice quadrata di un numero tra 0 e 1 porta un numero più grande, più vicino a 1. Ora, dividiamo 1 per un numero solo di poco più piccolo di 1 e cosa otterremo? Beh, otterremo un numero di poco maggiore di 1. Quando dico di poco intendo davvero di poco. Se v fosse 100 metri al secondo, che non è una velocità piccola per i nostri standard, essendo equivalente a 360 km orari, gamma varrebbe 1,0... Oddio quanti zeri, vabbè, ve lo scrivo che faccio prima. Ma persino se la velocità fosse circa un terzo di c il valore di gamma sarebbe di poco superiore a 1,06. Ma a mano a mano che ci avviciniamo a c il valore di gamma potremmo dire che esplode, aumenta in maniera drammatica, ben più che esponenziale. Infatti, quando v tende a c, gamma tende a più infinito. I protoni dentro LHC viaggiano a circa il 99,9999991% di c e gamma per loro vale circa 7460. A quelle velocità i suoi effetti si sentono eccome. Ma per un'automobile, una pallina da tennis, un proiettile sparato da un fucile, gamma non è mai abbastanza diverso dall'unità da valere la pena di inserirlo nei conti. E quindi torniamo a P uguale a m per v. Quello che la relatività ristretta ci dice è che nell'espressione corretta il momento non è proporzionale alla velocità della particella. Punto. Basta. Finita lì. La massa non c'entra niente, ci mancherebbe solo. La massa di una particella è una cosiddetta invariante, ossia una proprietà della particella che non dipende dal sistema di riferimento adottato, mentre questo non vale ovviamente per la velocità e quindi per il momento. La particella è un elettrone e allora avrà la massa che hanno tutti gli elettroni, nessuno escluso, a qualunque velocità essi viaggino. Ma allora, da dove esce la convinzione che la massa aumenta con la velocità? Da un modo di introdurre la relatività ristretta che ora non viene più utilizzato e anzi viene considerato come una inutile fonte di confusione. Gamma è una quantità adimensionale, non ha un'unità di misura. Quindi se prendo la massa e la moltiplico per gamma il risultato è ancora un qualcosa che ha le dimensioni di una massa. Questo qualcosa viene talvolta chiamato massa relativistica e se scriviamo il momento usando questa sostituzione avremo un'espressione che assomiglia a quella non relativistica. Ma ci assomiglia e basta perché non è che il momento torni a essere proporzionale alla velocità, perché c'è quella cosa, quella massa relativistica, che dipende anche lei dalla velocità. Ma c'è davvero bisogno di semplificare un'espressione semplice come più uguale gamma per m per v? È davvero troppo complicata? E poi per quale motivo? Per inserire un'entità che non è più un'invariante ma dipende dal sistema di riferimento? E che basta dimenticare quell'aggettivo, relativistica, per cadere in un errore grossolano? E che dire poi del concetto di massa a riposo, che sarebbe la massa relativistica della particella ferma, che è equivalente alla massa… e basta? Questo non vi creerebbe confusione portandovi a pensare che anche la massa a riposo sia dipendente dal sistema di riferimento? Onestamente io… Buh. Quindi, la prossima volta che sentirete qualcuno dire che la massa aumenta con la velocità, condividetegli questo video. Che male non gli fa. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto, come al solito, pollici in su e condividetelo con gli amici. Vi ricordo che su Docety è sempre disponibile il mio corso introduttivo sulla meccanica quantistica e non so se vi ne siete accorti, ho riavviato il secondo canale su QuiProQuark trovate video lezioni di fisica per il liceo. Qua sotto maggiori informazioni. Io intanto vi ringrazio per la visualizzazione, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, siate curiose, la fisica è là dove non ve l'aspettate! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!